Un saluto amiche e amici di Appunti Creativi, a quanto è capitato di combattere contro le incrostazioni del calcare. Un fastidioso classico che trovo insopportabilmente antiestetico sono le macchie sulle ante del box doccia. Ho provato un rimedio che si è rivelato magico. L'acido citrico è una bomba contro il calcare. Nel box descrizioni lascio il link all'articolo su Appunti Creativi in cui presentiamo l'acido citrico, le sue proprietà e le precauzioni per l'uso. In questo video invece voglio mostrare proprio l'effetto pratico. Basterà creare una soluzione di acido citrico e acqua. Le dosi variano a seconda della durezza dell'acqua che si usa. Qui sotto maggiori dettagli. L'acqua di casa mia è molto dura e quindi ho disciotto 200 g di acido citrico in 800 g di acqua, ottenendo così un litro di soluzione. Ho applicato la quantità necessaria sulle superfici da trattare, in questo caso le ante del box doccia e lo sgocciolatoio del mio lavello franche nero. Bisogna lasciare all'acido citrico il tempo di agire. 10-15 minuti sono stati sufficienti in questo caso. Poi si passa un panno umido o una spugna dove le macchie sono più ostinate e il risultato è semplicemente strabiliante. Da quando ho scoperto l'acido citrico non lo mollo più, inoltre è molto meno inquinante e aggressivo dell'acido. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così un like è molto molto gradito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sulle video novità di Appunti Creativi. Passate a trovarmi su appunticreativi.it e seguitemi sui social. E al prossimo video di Appunti Creativi!